35. A oltre 3.000 chilometri di distanza, sorella era seduta vicino alla cucina. Tutti gli altri stavano dormendo sul pavimento della stanza ed era la sua notte di guardia al fuoco, per tenerlo acceso e mantenere le bracci incandescenti, in modo che non dovessero sprecare fiammiferi. La stufa era stata impostata al minimo per risparmiare le loro scorte di cherosene in diminuzione e il freddo aveva iniziato a insinuarsi attraverso le fessure delle pareti. Mona Ramsey borbottò nel sonno e suo marito cambiò posizione e le mise intorno un braccio. Il vecchio era profondamente addormentato, Artie era disteso su un letto di giornali e ogni tanto Steve Buchanan russava come una motosega. Ma sorella era preoccupata dal fischio nel respiro di Artie. Aveva notato che si teneva le costole, ma lui aveva detto di stare bene, che a volte aveva il fiato corto ma che per il resto si sentiva, come diceva lui, come i cetriolini nella panna. Lei lo sperava, perché se Artie avesse avuto una qualche ferita interna, causata forse da quel dannato lupo che lo aveva colpito sull'autostrada una decina di giorni prima, non avevano farmaci per combattere un'infezione. Il borsone era accanto a lei, allentò il cordoncino e infilò dentro la mano. Trovò l'anello di vetro e lo tirò fuori, nella luce delle braci. Il suo bagliore riempì la stanza. L'ultima volta che aveva guardato nel cerchio di vetro, durante il suo turno al fuoco di quattro notti prima, aveva di nuovo camminato nel sogno. Un secondo era seduta proprio lì, tenendo il cerchio proprio come stava facendo in quel momento, e il secondo dopo si era ritrovata davanti a un tavolo. Un tavolo quadrato, con quelle che sembravano delle carte, sistemate sulla sua superficie. Le carte erano decorate con disegni, ed erano diverse da qualsiasi carta sorella avesse mai visto. In particolare una di esse aveva attirato la sua attenzione, la figura di uno scheletro su un cavallo, pelle e ossa, impennato, che colpiva con una falce quello che sembrava un grottesco campo di corpi umani. Aveva pensato che c'erano delle ombre nella stanza, altre presenze, le voci offuscate di persone che parlavano. E aveva anche pensato di aver sentito tossire qualcuno, ma il suono era stato distorto, come se l'avesse avvertito attraverso una lunga galleria eccheggiante, e quando era tornata nella capanna si era resa conto che era artica e tossiva e si teneva le costole. Aveva pensato spesso a quella carta con lo scheletro che brandiva una falce. Poteva ancora vederla quando chiudeva gli occhi. Pensava anche alle ombre che sembravano essere nella stanza con lei, cose prive di sostanza, ma forse era così solo perché tutta la sua attenzione era concentrata sulle carte. Magari, se si fosse concentrata per dare forma alle ombre, avrebbe potuto vedere chi c'era lì. Giusto, pensò. Stai pensando come se andassi davvero da qualche parte quando vedi immagini nel cerchio di vetro. E ovviamente erano solo quello. Immagini, fantasia, immaginazione, una qualunque di queste cose. Non c'era affatto qualcosa di reale in esse. Ma sapeva che camminare nel sogno e tornare indietro stava diventando più facile. Non camminava nel sogno ogni volta che guardava nel vetro, comunque. La maggior parte delle volte era solo un oggetto che brillava come le fiamme, senza alcuna immagine da sogno. Ciò nonostante, l'anello di vetro aveva un potere sconosciuto. Di quello era certa. Se non fosse stata una cosa con uno scopo potente, perché quell'essere che era Doyle Holland l'aveva voluta? Qualunque cosa fosse, doveva proteggerla. Era responsabile per la sua sicurezza. E non poteva, non osava perderla. Per le bretelle di Gesù. E quello cos'è? Spaventata, sorella alzò lo sguardo. Paul Thorson, con gli occhi gonfi per il sonno, era uscito dalla tenda verde. Si spinse indietro i capelli disordinati e restò fermo, con la bocca spalancata, mentre l'anello pulsava allo stesso ritmo del battito cardiaco di sorella. Fu quasi sul punto di infilarlo di nuovo nel borsone, ma ormai era troppo tardi. Quella cosa va a fuoco, riuscì a dire lui. Che cos'è? Non ne sono ancora sicura. L'ho trovata a Manhattan. Dio mio, che colori! Si inginocchiò accanto a lei, palesemente sopraffatto. Un fiammeggiante cerchio di luce era l'ultima cosa che si sarebbe aspettato di vedere quando era entrato per scaldarsi con le braci. Cosa lo fa pulsare in quel modo? Segue il ritmo del mio battito. Lo fa quando lo tieni in mano. Cos'è? Una cosa giapponese? Funziona a batteria? Sorella fece un sorriso sarcastico. Non penso. Paul tese una mano e lo toccò con un dito. Sbatté le palpebre. Ma è vetro? Esatto. Wow, sossurrò lui. Poi disse. Ti andrebbe bene se... Lo tenessi in mano. Solo per un secondo. Lei era sul punto di rispondere affermativamente, ma la promessa di Doyle Haaland la bloccò. Quel mostro poteva assumere l'aspetto di chiunque. Una persona qualsiasi in questa stanza poteva essere la cosa che era Doyle Haaland. Anche lo stesso Paul. Ma no, si erano lasciati il mostro alle spalle, no? Come viaggiava una creatura del genere. Ricordò che aveva detto «Ho seguito la linea di minore resistenza». Se indossava una pelle umana, allora viaggiava anche come un umano. Rabbrividì, immaginandolo camminare dietro di loro con ai piedi le scarpe di un morto, avanzando giorno e notte senza riposare, fino a quando le scarpe gli si disintegravano ai piedi, per poi fermarsi e prenderne un altro paio da un cadavere, perché poteva adattarsi a ogni misura. «Posso», insistette Paul. «Dov'è Doyle Haaland?» si chiese sorella. «Lì fuori, nell'oscurità, proprio adesso, che passa lungo la interstatale Ottanta. Avanti di tre o quattro chilometri, a consumare un altro paio di scarpe. Poteva volare nel vento, con gatti neri sulle spalle e gli occhi pieni di fiamme, o era un vagabondo lacero sull'autostrada, in cerca di falò accesi nella notte?» Era dietro di loro, vero? Sorella fece un profondo respiro e porse l'anello di vetro a Paul. Lui vi fece scivolare intorno la mano. La luce restò costante. La metà che Paul stava tenendo assunse un ritmo nuovo, più veloce. Lo tirò a sé con entrambe le mani e sorella espirò. «Parlame», disse lui. «Voglio saperne di più». Sorella vide il riflesso delle gemme nei suoi occhi. Sul suo volto c'era uno stupore infantile, come se gli anni gli cadessero rapidamente di dosso. Qualche secondo dopo, sembrava di dieci anni più giovane dei 43 che aveva. Allora decise di raccontargli ogni cosa. Quando ebbe finito, lui restò in silenzio per molto tempo. La pulsazione dell'anello aveva accelerato e rallentato durante tutto il racconto. «Carte dei tarocchi», disse Paul, ancora ammirando l'anello. «Lo scheletro con la falce rappresenta la morte». Facendo uno sforzo, alzò lo sguardo su di lei. «Lo sai che tutto questo sembra dannatamente folle, vero?» «Sì, lo so. Ecco la cicatrice dove mi è stato strappato il crocifisso. Pure Arti ha visto cambiare la faccia di quella cosa, anche se dubito che lo ammetterebbe con te. Non ne ha parlato da quando è successo. Immagino sia meglio così. E questo è il cerchio di vetro a cui manca una punta». «Non hai approfittato del mio Johnny Walker, vero?» «Sai che non è così. So di vedere delle cose quando guardo nel vetro. Non ogni volta, ma abbastanza per farmi capire che o ho una grande immaginazione o...» «O cosa?» «O», continuò lei, «c'è una ragione perché ce l'abbia io. Perché dovrei vedere un cookie monster per terra in un deserto? O una mano che esce da una buca? Perché dovrei vedere un tavolo con sopra le carte dei tarocchi? Diamine, non so nemmeno cosa siano quelle dannate cose!» «Le usano gli zingari per predire il futuro? O le streghe?» Fece un mezzo sorriso che lo rese quasi attraente. Il sorriso scomparve quando lei non lo restituì. «Ascolta, io non so nulla di demoni con occhi che si spostano o di camminare nei sogni. Ma so che questo è un pezzo di vetro dannatamente bello. Un paio di mesi fa questa cosa sarebbe valsa...» Scosse la testa. «Wow», disse di nuovo. «L'unica ragione per cui ce l'abbia tu è che ti trovavi al posto giusto nel momento giusto. Già questo è abbastanza magico, no?» «Ma non credi a quello che ti ho detto, giusto?» «Vorrei dire che le radiazioni ti hanno scombussolato le rotelle. O forse le bombe nucleari hanno fatto esplodere il coperchio dell'inferno stesso e chi può dire cosa ne sia uscito?» Le restituì l'anello e lei lo rimise nel borsone. «Tu prenditi cura di quella cosa. Potrebbe essere l'unica cosa bella rimasta.» Dall'altro lato della stanza, Arti trassalì e trattenne il fiato, quando cambiò posizione. E poi restò di nuovo immobile. «Ha delle ferite interne», le disse Paul. «Ho visto del sangue nel secchio dei suoi escrementi. Immagino abbia una o due costole scheggiate che probabilmente stanno tagliando qualcosa.» Si strofinò le dita, sentendo il calore del cerchio di vetro in esse. «Non credo che sia messo molto bene.» «Lo so. Ho paura che qualsiasi cosa sia possa infettarsi.» «È possibile. Merda. Con queste condizioni di vita potresti morire perché ti mangi le unghie.» «E non ci sono farmaci.» «Mi dispiace. Ho preso l'ultimo Tylenol tre giorni prima che cadessero le bombe. Una poesia che stavo scrivendo è caduta a pezzi.» «Quindi faremo quando finirà il cherosene.» Paul grugnì. Si aspettava quella domanda e sapeva che non l'avrebbe fatta nessun altro a parte lei. «Abbiamo scorte per un'altra settimana, forse. Sono più preoccupato per le batterie della radio. Quando quelle saranno morte, questa gente perderà la testa. Immagino che a quel punto tirerò fuori lo scotch e faremo una festa.» I suoi occhi erano di nuovo vecchi. «Giochiamo al gioco della bottiglia e chiunque è il fortunato può timbrare il cartellino per primo.» «Timbrare il cartellino? È questo che vorrebbe dire.» «Ho una 357 magnum in quel baule, signora.» Le ricordò. «E una scatola di pallottole. Sono andato vicino a usarla su di me per due volte. Una volta quando la mia seconda moglie mi ha lasciato per un ragazzino con la metà dei miei anni, prendendosi tutti i miei soldi e dicendo che il mio cazzo non valeva due centesimi in tempi di crisi. E la seconda volta, quando le poesie su cui stavo lavorando da sei anni sono bruciate insieme al resto del mio appartamento.» Quello è successo appena dopo essere stato licenziato dal personale del Millersville State College per essere andato a letto con una studentessa che voleva una A nel suo test finale di letteratura inglese. Continuò a strofinarsi le nocche, evitando lo sguardo della donna. «Non sono quello che chiameresti un ragazzo fortunato. In effetti, quasi tutto quello che ho mai provato a fare si è trasfermato in una torta di merda. Quindi quella magnum mi aspetta da molto tempo. Sono già in ritardo.» Sorella restò sconvolta dalla sua schiettezza. Parlava di suicidio come fosse il prossimo passo di una progressione naturale. «Amico mio», disse con fermezza, «se pensi che sono venuta fino a qui per farmi saltare le cervella in una capanna, allora sei tanto pazzo quanto lo ero io.» Si morse la lingua. Adesso l'uomo la guardava con il massimo interesse. «E quindi che farai? Dove te ne andrai? Al supermercato, per un paio di bistecche e una confezione da sei di birre? Che ne dici di un ospedale per evitare che arti si dissangui dall'interno? Nel caso non lo avessi notato non è rimasto granché là fuori.» «Beh, non ti avrei mai preso per codardo. Pensavo che avessi fegato, ma devi essere solo imbottito di segatura.» «Io stesso non avrei potuto dirlo meglio.» «E se loro volessero vivere?» Sorella indicò le figure addormentate. «Loro ammirano te. Faranno quello che dirai loro di fare. Quindi dirai loro di timbrare il cartellino.» «Possono decidere da soli. Ma come ho detto, dove potrebbero andare?» «Là fuori», disse lei e annui verso la porta. «Nel mondo, o almeno in quello che ne rimane. Non sai cosa ci sia a dieci o quindici chilometri lungo l'autostrada. Potrebbe esserci un rifugio della protezione civile o un'intera comunità di gente. L'unico modo di scoprirlo è saltare nel tuo furgone e andare a ovest lungo la interstatale Ottanta.» «Non mi piaceva il mondo come era prima. È sicuro come la morte. Adesso mi piace ancora di meno.» «E chi ha detto che ti deve piacere? Ascolta, non raccontarmi storie. Tu hai bisogno delle persone più di quanto vuoi credere.» «Certo», disse lui con sarcasmo. «Le amo tutte quante.» «Se non hai bisogno delle persone», lo sfidò Sorella. «Perché arrivi fino all'autostrada. Di certo non per uccidere lupi. Quello puoi farlo dalla porta di casa. Sei andato all'autostrada per cercare gente, vero?» «Forse volevo un pubblico di prigionieri per le mie letture poetiche.» «Sì, sì. Beh, quando il carosene sarà finito io andrò a ovest e Arti verrà con me.» «Ai lupi piacerà molto, signora. Saranno felici di scortarvi.» «Prenderò anche il tuo fucile», disse lei. «E i proiettili.» «Grazie per aver chiesto il mio permesso.» Lei si strinse nelle spalle. «Tutto quello che ti serve è la Magnum. Dubito che dovrai preoccuparti molto per i lupi da morto. Vorrei prendere anche il pick-up.» Paul rise senza divertimento. «Nel caso l'avessi dimenticato, ti ho detto che non c'è molta benzina e i freni sono andati. Probabilmente il radiatore è congelato adesso. E dubito che ci sia carica nella batteria.» Sorella non aveva mai incontrato qualcuno così pieno di ragioni per restarsene seduto sulle chiappe a marcire. «Hai provato il furgone di recente? Anche se il radiatore è congelato possiamo accendere un fuoco sotto quella dannata cosa.» «Hai proprio pianificato tutto, eh? Prenderai l'autostrada con un vecchio furgone scassato e proprio dietro la curva ci sarà una splendente città piena della gente della protezione civile, dottori e poliziotti che fanno del loro meglio per rimettere insieme questo bel paese. Scommetto che troverai tutti i cavalli del re e anche i suoi uomini, signora. Io lo so cosa c'è dopo la curva. Altra fottuta autostrada, ecco cosa.» Si stava strofinando le nocche con più forza ora, con un sorriso amaro che tremolava agli angoli della bocca. «Ti auguro buona fortuna, signora. Davvero.» «Io non voglio augurarti buona fortuna», gli rispose lei. «Io voglio che vieni con me.» Lui restò in silenzio. Le sue nocche schioccarono. «Se là fuori è rimasto qualcosa», disse. «Sarà peggio di Dodge City, dell'inferno di Dante, dei secoli bui e della terra di nessuno messi insieme. Vedrai cose che faranno sembrare il tuo demone con gli occhi che si muovono uno dei sette nani.» «Ti piace giocare a poker, ma non sei un gran giocatore d'azzardo, vero?» «Non quando le probabilità hanno denti.» «Io andrò a Ovest», disse sorella, facendo un ultimo tentativo. «Prenderò il tuo furgone e vedrò di trovare aiuto per Arti. Chiunque voglia può venire con me. Che ne dici?» Paul si alzò in piedi. Guardò le figure addormentate per terra. «Loro si fidano di me», pensò. «Faranno quello che dirò. Ma qui siamo al caldo e siamo al sicuro e...» E il kerosè ne sarebbe bastato solo per un'altra settimana. «Ci dormirò sopra», disse bruscamente, e attraversò la tenda per andare nella sua stanza. Sorella restò seduta ad ascoltare il sibilo del vento. Arti fece un altro rantolo di dolore nel sonno, con le dita premute sul fianco. dalla distanza arrivò il leggero e acuto ululato di un lupo, e il suono tremò come una nota di violino. Sorella toccò il contorno del cerchio di vetro nel borsone e diresse i suoi pensieri verso il domani. Dietro la tenda verde, Paul Thorson aprì il baule e prese la 357 Magnum. Era una pistola pesante, di un nero bluastro, con un ruvido calcio marrone. La pistola sembrava fatta per la sua mano. Girò la canna verso il proprio volto e guardò nel suo occhio nero e freddo. Una pressione, pensò, e tutto sarebbe finito. Era davvero così semplice. La fine di un viaggio disastroso è l'inizio di... cosa? Fece un respiro profondo, lo rilasciò e mise giù la pistola. La sua mano tornò su con una bottiglia di scotch e lui la portò a letto con sé.